Salve a tutti amanti delle storie e benvenuti in un nuovo video recap, quei video in cui vado a riassumervi le stagioni precedenti di una serie in uscita. Oggi parliamo di Good Omens stagione 1. Cerchiamo di rinfrescarci le idee insieme prima di guardare la seconda stagione che sta uscendo su Prime. Prima di iniziare però vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanella e supportare i miei contenuti se vi piacciono. L'angelo Aziraphale e il demoni Crowley sono amici fin dall'inizio dei tempi. A Crowley viene affidato il compito di consegnare l'anticristo neonato a un diplomatico americano e sua moglie, i Dowling. I Dowling si trovano in un ospedale gestito da un gruppo di suore sataniche. Insieme a loro c'è anche un'altra coppia, gli Young. Il bambino verrà accidentalmente consegnato a questa seconda famiglia inglese. Aziraphale e Crowley, entrambi poco propensi a favorire l'apocalisse, si fanno assumere dai Dowling come giardiniere e bambinaia sperando di esercitare sul bambino, che credono essere l'anticristo, un'influenza in egual misura positiva e negativa, così che possa crescere come un comune essere umano e senza manifestare particolari propensioni al bene o al male. Il giorno del suo undicesimo compleanno, i due attendono la venuta del segugio infernale che risveglierà i poteri del bambino. Ma questo non arriva e loro capiscono di aver seguito il bambino sbagliato. Il segugio più furbo di loro rintraccia il vero anticristo, Adam Young, e prende l'aspetto di un cagnolino a cui Adam dà il nome di Dog, facendo così partire il conto alla rovescia per l'apocalisse. Anatema De Weiss, occultista americana, arriva in Gran Bretagna per trovare e fermare l'anticristo, come previsto dalla profezia della sua antenata, raccolta in un libro di profezie, le belle e accurate profezie di Agnes Nutter, strega. Presto trova Adam, ma non ha ancora idea di chi sia in realtà. Nel frattempo, Newton Palsifer, discendente del cacciatore di streghe che ha condannato a morte l'antenata di Anatema, viene reclutato, come cacciatore di streghe a sua volta, da Sergeant Showwill. L'angelo e il demone investono accidentalmente Anatema, e scoprono così il libro di profezie, grazie al quale riescono a rintracciare Adam. Anatema dà ad Adam delle riviste, il ragazzo comincia ad interessarsi a questioni quali l'inquinamento, il riscaldamento globale, le visite degli alieni e la scoperta del continente di Atlantide. Quella notte, desiderando di poter migliorare il mondo, riesce a far svanire un reattore nucleare da una base aerea. I suoi poteri non si fermano qui, Atlantide infatti emerge dagli abissi e il Kraken si risveglia, scatenando il caos. All'insaputo l'uno dell'altro, sia Ziraphale che Crowley incaricano Shadwell di trovare l'anticristo. Il cacciatore di streghe manda Newton ad indagare. Convinto che la sua fazione rappresenti il bene, a Ziraphale discute con Crowley e decide di prendere le distanze da lui. Nel dialogare però con gli angeli, li scopre ostile e sospettosi rispetto alla sua amicizia con il demone. Gli chiedono infatti di unirsi a loro nella lotta contro il male. Anche i demoni vogliono punire Crowley per il suo pasticcio con l'anticristo, ma il demone riesce a fuggire. A Ziraphale cerca di contattare Dio per risolvere la questione pacificamente, ma non ci riesce. Shadwell si reca alla libreria di A Ziraphale, ma vedendolo in piena seduta spiritica, si convince che questi sia in combutta con streghe e demoni e tenta di esorcizzarlo. Purtroppo non ci riesce, finisce invece per separarlo dal suo corpo mortale e mandarlo in paradiso. Prima di dare accidentalmente fuoco alla libreria. Newton trova anatema, ma invece di cacciarla si innamora di lei e l'aiuta a capire che Adam è l'anticristo. Anche Adam scopre la sua vera natura, cattura i suoi amici e mette in piedi un piano per distruggere il mondo. I quattro cavalieri dell'apocalisse si uniscono ad Adam per l'armageddon. A Ziraphale, prigioniero in paradiso, ha bisogno di un corpo ospite per raggiungere la terra. Riesce comunque a rintracciare Crowley dicendogli di dover trovare Adam. Poi possiede il corpo di una medium e corre anche lui a tentare di fermare l'apocalisse. Grazie all'aiuto di suoi amici, Adam torna in sé e tenta di prevenire la fine del mondo. I quattro cavalieri però hanno già dato avvio all'armageddon, iniziando i lanci di diverse testate nucleari. Adam e i suoi amici affrontano i cavalieri, mentre Newton e anatema riescono ad impedire i lanci delle testate. Arriva poi Satana, il padre biologico di Adam, e cerca di convincerlo a distruggere il mondo. Ma a Ziraphale, che ha ripreso il suo corpo grazie ai poteri di Adam e Crowley, lo aiutano a sconfiggerlo. L'armageddon è evitato, il mondo torna alla normalità. A Ziraphale e Crowley però vengono catturati dai loro schieramenti e condannati a morte per tradimento. Subiscono le loro pene ma riescono a sopravvivere. Infatti grazie ad un suggerimento delle profezie dell'antenata di anatema, si sono scambiati i ruoli, riuscendo così a sopravvivere e a farla franca. E con questo è tutto ragazzi, spero che il video vi sia stato utile, fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate, se state anche voi aspettando con gioia questa nuova stagione, fatemi sapere tutto nei commenti. Per oggi è tutto, noi ci vediamo, si fa per dire al prossimo video e ciao!